4.394.000 euro, questo è il valore dell'investimento della Regione Piemonte che raddoppia i fondi per l'indennità di pronto soccorso destinata al personale infermieristico e delle professioni sanitarie. Altri 5.864.000 euro andranno per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026 e saranno spesi per fronteggiare la carenza di personale sanitario nelle aziende sanitarie regionali, ridurre le liste d'attesa e ricorso alle esternalizzazioni. Un problema è quello delle liste d'attesa e delle carenze di personale di cui si sta molto discutendo negli ultimi mesi. Manteniamo l'impegno, afferma il presidente Alberto Cirio, a ristorare il disagio lavorativo del personale del pronto soccorso e a definire la remunerazione delle prestazioni aggiuntive per i prossimi tre anni. Dobbiamo al personale della sanità il massimo della riconoscenza, ognuno sta facendo la propria parte al meglio, grazie alle organizzazioni sindacali con le quali il dialogo costruttivo su questi temi non è mai venuto meno, dice la sua anche l'assessore alla sanità Luigi Icardi. L'indenità mensile di pronto soccorso, riferisce, passerà da 100 euro a 200 euro medi, con decorrenza retroattiva dal giugno del 2023. L'aumento è calcolato su base giornaliera a 10 euro e per i turni di 12 ore a 16 euro. La tarifa oraria per le prestazioni aggiuntive è stata fissata a 60 euro. Con la busta paga del mese di giugno 2024 verranno corrispossi gli arretrati relativi al periodo da giugno 2023 fino ad aprile del 2024, con un adeguamento dell'indenità giornaliera a partire da luglio 2024. Dopo il tavolo con l'incomparto, nei prossimi giorni farà seguito quello con i medici.